Una tre giorni di musica, degustazioni gratuite, spettacoli, mercatini, show cooking, incontri e dibattiti per celebrare il quinto anniversario del riconoscimento UNESCO della dieta mediterranea come patrimonio immateriale dell'umanità, a Pollica e nelle frazioni di Pio Piacciaroli, dove vissi studiato lo scienziato americano Ansel Kiss, padre della dieta mediterranea. L'evento è realizzato con il progetto Pescato della dieta mediterranea, finanziato dal fondo FEP Campania, per valorizzare il pescato locale. Si comincia stasera alle ore 21 nel piccolo borgo di Pescatori di Pioppi, dove tutto è iniziato, con un'anteprima fatta di mercatini, musiche e degustazioni in piazza e sul lungomare, con un concerto finale di Peppe Servillo e Solis String Quartet. Domani alle 20.30 appuntamento ad Acciaroli con un percorso enogastronomico tra i vicoli del porto, dove ristoranti, bar e pizzerie prepareranno le specialità tipiche a base di pescato e prodotti della dieta mediterranea in degustazioni gratuite. Durante la serata una lunga jam session di artisti campani animerà il palco sul porto. Tra loro Eugenio Bennato, Nello Daniele e Tony Esposito, che si esibiranno fino a notte fonda con un particolare omaggio a Pino Daniele. A luna si spegneranno le candeline del quinto compleanno della dieta. Domenica 15 novembre alle ore 17 a Pollica la festa diventa istituzionale, con una riflessione sulla pesca e di prodotti ittici. L'appuntamento vedrà la presenza del governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca. A latere si procederà con la sottoscrizione da parte dei comuni cilentani della Carta dei Valori della Dieta Mediterranea, presentata lo scorso settembre ad Expo dal sindaco di Pollica, Stefano Pisani, e dal ministro delle politiche agricole, Maurizio Martina, dopo aver portato una delegazione di centenari cilentani ad Expo Milano per raccontare i benefici e la bontà dello stile di vita mediterraneo.